Francesco Nubile, portiere di una pizzeria mia che questa settimana ha vinto 1-0 contro la Castellamare 95, gol di Basilico decisivo ma determinante anche il penalty neutralizzato dal portiere Nubile. Ho intuito questo tiro da parte dell'attaccante della Castellammare che comunque non era molto forte e alla fine è andata bene per noi. L'obiettivo di Verzigli è stato sin da subito il divertimento, quest'anno però magari c'è l'ambizione di puntare i primi 4 posti oppure l'importante è ben figurare e poi sprigionare tutto il vostro potenziale nella Coppa UISP? Diciamo che l'obiettivo da centrare è sempre quello più ambizioso, quello di vincere o perlomeno centrare il quarto posto, terzo posto. Anche la Coppa UISP comunque non la svegniamo quindi sicuramente e sportivamente cercheremo di fare del nostro meglio. Chiaramente Glinko ci ha lasciati e subentrato Verzigli con il mister Sandro Marenucci e chiaro che le cose sono un po' cambiate e cercheremo di andare avanti partita dopo partita. Grazie, complimenti e ovviamente auguri il Buon Natale. Grazie, auguri a tutti, a te che ci metti il cuore e noi l'animo.